Da Macco e Di Piazza firmano la prima vittoria del Brindisi che spugna il campo di Francavilla in Ansini e conquista i primi tre punti della nuova stagione. Un buon primo tempo, un buon approccio anche della formazione lucana che al sesto minuto ci prova con un tiro di Raimo e bravissimo Vismara alla deviazione e a salvare il risultato. Passano poco meno di due minuti e il Brindisi trova il vantaggio, inserimento dalla destra di Danna, spinta e calcio di rigore decretato dal direttore di gara, dal dischetto si presenta Dan Macco che spiazza il numero uno Lucano e porta il Brindisi in vantaggio. Il Francavilla in Ansini manovra ma non crea grossi pericoli, nel finale il Brindisi ancora pericoloso al 34esimo, inserimento dalla sinistra di Dan Marco, sfera al centro sul secondo palo, interviene Danna, salvataggio quasi sulla linea dei difensori di casa. Nella ripresa, buon ritmo nei primi minuti al quarto colpo di testa di Marco Nato, la sfera termina sul fondo, il Brindisi prova a far scorrere i minuti, a gestire la sfera, non riesce in alcune ripartenze a trovare l'ultimo passaggio per trovare il raddoppio e chiudere la gara. Il diciottesimo, cross lungo, colpo di testa di Giuseppe Esposito con la sfera che termina sul fondo, la formazione Brindisina chiude ogni spazio, non corre i rischi e poi ci vuole l'esperienza di Di Piazza che è entrato da pochi minuti in campo, si inserisce, sfrutta l'incertezza della retroguardia lucana, supera il portiere del Francavilla in Sinni e deposita la sfera in rete per mettere la sua firma al raddoppio. E alla prima vittoria a Brindisina contro il Francavilla in Sinni.